1932, Olimpiadi di Los Angeles. Luigi Beccali vince la medaglia d'oro nella corsa dei 1500 metri piani, una delle più prestigiose gare della specialità. Beccali liquida l'inglese Cones e il canadese Edwards dopo essere emerso di sorpresa nell'ultima curva. Tempo tre primi 51 secondi e due, nuovo record olimpico. A ritorno in patria gli faranno interpretare al cinema questa specie di scherzo, è un piccolo documento della semplicità psicologica dell'epoca. Guardi signor Beccali che il suo amico è già andato via, se lei vuole andare ai canottieri l'autobus è là, guardi. Questa sequenza è tratta dal film Stadio, regista Campo Galliani, soggettista Romolo Marcellini. Grazie a tutti.